buongiorno sono luca biagini sono presidente del rione centro storico l'associazione che gestisce la rocca siamo onorati di avere qua settimo festival internazionale di musica organizzato da green music è un onore avere il maestro novizio nastrini a alietare 270 persone e sono qui per un concerto che non è proprio così semplice svegliarsi la mattina alle 5 e assistere a un concerto ma ne vale la pena per noi è un onore e ringraziamo soprattutto l'amministrazione che ha voluto esserci in questa cosa grazie mille